vai allora cavalli della seconda corsa in pista ce l'abbiamo fatta anche questi cavalli sempre sulla distanza dei 1100 metri andiamo a delincarli sono otto anche qui perché il numero 1 c'è il vicolo con marcia chiavazza che è lo stesso proprietario il numero 2 a io dei sedi le scuderie di lariano e fantino e tali di mestica orze e peggente il numero 3 il numero 6 il numero 6 il numero 6 il numero 7 è Eultrate con il cavallo dell'incorso il numero 9 non so se il numero di poccia c'era rimasto invariato nonostante l'assenza di Perontebello è Bosea della Fideria Chioda di Antonio Siri allora intanto da notarmi ci sono sì dei cavalli di gente ma ci sono anche grandi questo è Antonio Siri con Bosea anche alle regolari è un nome molto importante ma di Bosea di Rino Amore infatti quindi facciamogli anche complimenti tra l'altro perché non è facile insomma ottenere certi risultati e poi vorrei fare anche un saluto a dei grandi appassionati agli amici di Ronciglione che quest'anno hanno portato milaio di Bondreamer alla scuderia di Enrico Bruschelli e quindi vorrei non solo salutarli ma anche fargli un in bocca al lupo ecco per questa loro... si abbiamo presentato tra l'altro con la scuderia di Buschelli e poi ci sono anche anche Piecolo ecco uno dei cavalli dei nomi insomma ormai conosciuti uno dei tagliotti e poi invece ci sono anche i cavalli nuovi qua di Bossa di Mores di Roncermi e Eufrato che se non erro è un grigio di Antonio Mula perché mi si sia non capisco bene sono già qua le devo ripetere? si allora con il numero uno No Discolo, Mattia Chiavassa con il numero due Aiode Sedini, Giuseppe Zedde con il numero tre Milady Bondreamer, Enrico Bruschelli con il numero 4 Costa de More, Alessio Michelli con il numero cinque Divino Amore, Michel Puzzu con il numero sei Piepolo, Elias Mannucci con il numero sette Eufrate, Antonio Mula con il numero nove di rincorsa, Bosea con Antonio Siri Noi ci spettiamo di andare per te, perché abbiamo visto questa periodologia. Sì. 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 Ma io non so più liberati, non posso la vedetta, mi mando un whatsapp ma io non posso rispondere, anzi devono essere non disturbati, infatti non da noi anche qui. Bene, ci siamo, l'ho pubblicato un'intervista di quello che ho fatto con il cappanno di E. C'è un po' perché lo credo, mamma mia, però non riesco a fare un confronto su quello che si vede bene, innalcia. Poi è il cappaccavo. E' il cappaccavo. E' il cappaccavo. Bene, aspettiamo che il calamassi richiama il canato e già sopra il suo balgacchino. Non mi rispondo. No, sta guardando a voi. Ma che messaggio l'hai letto loro, non vedo whatsapp. il cappaccavo, non vedo il cappaccavo. E' il cappaccavo. E' il cappaccavo. C'è il cappaccavo. Prendi questa ferramma perché non arriva. Ok, aspettiamo i richiami. quindi lui ce n'è uno in meno. Allora entra il discolo con il panticello che avanza. Il discolo? Ah, dice... No, lo dice tanto la fiori. Non metto il panticello a saltare. Ma c'è un lievito. E' il cliro. E' l'acqua. E' l'acqua. E' l'acqua. C'è un luogo? C'è un luogo. Il strato. Il strato. Non c'è un luogo. Il strato. E' il salto. Il strato. E' il salto. la piazza chelera quando c'è la procedura che è alta, quando c'è la COLTELA, mi buon giorno buon giorno buon giorno buon giorno ben sentiti eh contro gli assidi contro gli assidi contro gli assidi si 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 ecco c'è stato un problema con il che è stato? c'è stato? non ce l'ha fatta abbassare divino amore divino amore il cavallo sta facendo la ginefina su ve lo faccio vedere la donna indietro ci abbiamo Viola ti piace Viola? no bene aspetta la se mi fa la foto mi vuole essere un appellato stanno ripreso? ancora no? sempre lì che gira la UPA ma in quella UPA è un po' che si vede lì no 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 questo è stata la bestiare però ti ho presso mia ma è so non so Sì, perché c'erano tanto stressati i cavalli, ha fatto più di tre giorni a Uva e poi si ha fatto riprendere senza problemi. Ora è bloccato, ora si rivede, ma l'audio si sente? L'audio. Ah, va bene. Quello di prima? Quello di prima come si sentiva? Sì, ecco, l'audio si sentiva, la prima si sentiva l'audio. Ora le rilenziamo. Comunque la registrazione andava, cioè... No, ora la mandiamo. Vi mando la registrazione della prima corsa, almeno la vedete. Eccola lì, vediamo che si è in posto giusto, se non si è particolare. Ok. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non posso fare diverso, non c'è segnale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta, 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 aspetta. Un posto qui e così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona, buona, buona. Buona, buona. Buona, buona. 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 Grazie.